Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il decreto di convocazione dei comizi in vista delle elezioni regionali del prossimo 25 settembre. L'assessorato regionale alle autonomie locali ha pubblicato anche le istruzioni per il deposito dei contrassegni di lista per le elezioni all'Assemblea regionale siciliana. I simboli di lista dovranno essere depositati al Dipartimento delle Autonomie Locali in via Trinacria 34 a Palermo dalle 9 alle 20 di sabato 13 agosto, 43esimo giorno antecedente la data del voto, e dalle 9 alle 16 del 14 agosto, 42esimo giorno antecedente. Il mancato deposito comporta l'impossibilità di presentare le liste nelle circoscrizioni provinciali. Fissate anche le date dell'affissione dei contrassegni ricevuti per la visione da parte dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici. Lunedì 15 dalle 9 alle 17 e martedì 16 agosto dalle 9 alle 14. Entro questi termini possono essere segnalate eventuali identità o confondibilità dei simboli. Le istruzioni del Dipartimento regionale illustrano anche le caratteristiche che i contrassegni devono contenere, i supporti e le dimensioni, il numero di copie da depositare, specificando inoltre chi può effettuare il deposito in forza di esplicito mandato autenticato e altre prescrizioni e modalità a cui attenersi.